io mi chiamo ghiwagi e lui è il mio amico si e io sono l'amico blu ok ma come siete arrivati beh ti spieghiamo tutto è vero blu vero ok allora tipo io sono arrivato a tempo che c'era tipo io ero tipo scivolato tipo così lo stavo camminando e poi aia vabbè sono fatto male poi tipo sono caduto tipo così aspetta blu tipo così e poi sono arrivato in questa spiaggia tu blu come come sei arrivato io sono arrivato che tipo io ero caduto e poi ero in discesa da un'ora va bene poi sono arrivato qui ma io invece sono arrivato che tipo che sono che c'era un portale e quindi sono arrivato così sono arrivato io invece non so dove sono telsi, narkoz e sonichino ma se ne sono andati come ho visto prima invece voi due come vi chiamate? io mi chiamo ghiwagi e io mi chiamo blu ah ok comunque se vedete una volpe gialla quella si chiama telsi invece se vedete un rosso quello si chiama narkoz e se vedete me stesso che ero un azzurro e sonichino quello più piccolo ah ok ok allora sonichino come ti chiamavi? io sono sonichino ah ok cosa dovremmo fare? che mi dite che diventiamo amici? ah bene ma io tipo avrei tipo un'idea cioè io ho un'idea che idea hai ai ghiwagi? io avrei l'idea che che mi dici che cerchiamo i tuoi amici? allora tels ha detto che sta tornando ah eccoli ciao io sono tels ciao io sono narkoz ciao io sono sonichino hit me mario ciao